Ciao a tutti, benvenuti nel villone del fazione Ok, questa non è venuta adesso, vi prego perdonatemi se ogni tanto faccio ste battute Però mi escono naturali Allora, siamo sul fazioni, come ho già detto Non so chi abbia trasformato la casa in questo villone sotterraneo super nascosto da tutti Ok, quello che avete letto, che ho letto e che probabilmente voi non stavate leggendo assieme a me Ma aspetta, sto registrando, si sto registrando Allora, c'è stato un problema, non ci stanno più i membri della fazione, hanno abbandonato Luca e Liazzi hanno leftato, mi hanno lasciato solo Intanto rispondo un attimo Mi hanno abbandonato perché, non lo so Però ho letto nei commenti che mi avete scritto, e voi li tenete d'occhio, peggio di quanto li tengo d'occhio io Che Liazzi è entrato in un'altra fazione No, dovrei smettere di fare avanti a dire perché sta scritta, mi si sta sbattendo in testa Comunque Sono entrati, cioè almeno Liazzi è entrato in un'altra fazione Luca, non lo so E ho pure scoperto che da adesso la mia fazione c'è anche degli amici Non so chi li abbia settati, non so come siano nemici Però ce li abbiamo, e questo non so se è positivo o se è negativo Comunque ringrazio chiunque abbia fatto sto red carpet in base Molto Bello, molto ricco E Direi che adesso andiamo allo spawn Da Luca, dov'è MSG Luca Perché Mi vuole, fate i doni E voi sapete che i doni sono l'ideale per entrare in fazione Rischiamo che arrivo allo spawn Però prima dovrò aspettare i secondi per fare il comando Comunque Ho pensato Ma non è che se ne sono andati perché io solfazioni centro Tipo una volta a settimana E ho pensato che potesse essere questa la risposta Però Sì, è sicuramente questa a sto punto E non è una cosa molto positiva Perché io me l'ho detto Che ci state pure tutti voi qua Ah, questo è lo spawn Ah, questo è Luca Luca, ciao Ciao Luca Questo è Luca L'ho invitato pure prima in fazione Però dice che deve entrare con il Suo secondo account E adesso sta pagando il Pegno di Fazione Sì, è un po' Sì, tacciuno Protection Protection Bravo Luca Per me stai già a posto Per me puoi già entrare in fazione Poi non vorrei che uno di questi Ti si tipo frega le cose In un modo ninja Però facciamo finta di niente E guardiamo così a caso Ciao Che vuoi? Saltiamo Sì Comunque Luca l'ho invitato in fazione Perché Stiamo a corto di membri Io devo fare cose con la fazione Voi non ve ne potete Andare così a caso Eh, non mi sta bene Dovete restare in fazione Perché prendete Un Come si dice Mi viene Mi viene da di Un Eh, non lo so come si dice in italiano Comunque Prendete un Un impegno Ok, grazie Grazie Prendete un impegno Che non potete rifiutare Perché Eh, non c'ho il permesso 18 in questa regione Vabbè, non scriverò nulla qui Luca poteva però Eh Vi prendete un impegno Ah, mi ricordo Quando facemmo sto coso Ah Bei tempi Comunque Vi prendete un impegno Per stare nella fazione Più grande Del server Migliore Che ancora deve crescere Però Ve lo prendete Lo stesso L'impegno E quindi Una volta entrati Restate Marchiati a vita Dalla fazione Del metallo Quindi conviene Restarci Perché se no Se uscite Ci fate brutta figura Perché dite Eh, me ne sono andato Da una delle fazioni Migliori del gioco Per entrare in una fazione Qualsiasi Scrausa Blablabla E no Non va bene Non va bene Nemmeno perché poi Io magari rientro E mi ritrovo La fazione vuota E dico ma Come mai è vuota Questa fazione Chi se ne è andato Do se ne è andato Perché se ne è andato Non sta bene Quindi Eh, ve lo dico Adesso pure a voi Che magari guardate E non state Sul server Non lo so Su fazioni Centro di solito Il fine settimana La sera Prevalentemente la sera Eh, se volete Entrare in fazione Non vi Basta Paraltro Escrivermi Un messaggio E dirmi Mario Vorrei entrare in fazione Ho visto il video Perché se vedete il video Sono tipo Mille punti in più Per Per andare Per entrare in fazione E quindi è positivo Perché se mi dite Ah, ho visto il video Io Eh, so più provenzo Ad invitarvi in fazione Poi vabbè Doni Non doni Quello è Un Un altro conto Ma questo sta a buttare cose per terra Ma come ti permetti Inquinatore Eh, torno alla Alla casa della fazione Ok E adesso invitiamo Luca Miriam mi adora Ah ah Rispondiamo MSG Eh, che ho combinato No, non Non so scrive Così Boh, non me lo fa scrive Grazie comunque Se guardi il video Sappi che T'ho detto grazie Il gioco Non me te lo fa di Ok Mi metto sta cosa Nella mia cesta Segreta Privata Tutta nascosta Tranne questo Ok, grazie E adesso Invitiamo F Invite Lava Memes Lava 10 Ho invitato Lava 10 Nella fazione Capite, io FC Eh, non posso fare FC Vabbè Scriverò tra poco Lava Vorrei pure iniziare A A fare qualcosa Ad andare in giro A dare degli ordini Ai sottoposti Però Se non ce li ho Ai sottoposti Non posso Non si può Eh, se ve ne andate Non ve ne dovete andare Quindi Eh, quando venite Invitati Nella Nella grandissima Fazione migliore Fatemi il favore Almeno di Comunicarlo Che ve ne andate Eh, a quanto pare Nella fazione c'è C'è il fly Va bene Ah, sì Però Appena finisco Cado a terra Va bene Non so se è legale Ah, lo dice Faction flight enabled Eh, sì Appunto Dicevo Eh, non ve ne andate Perché Dobbiamo fare cose Io non posso mica Fa 20 video Del fazione Do continuo a regolare gente Perché l'altra se ne va Poi metto a piange E non va bene Intanto Vediamo se stavolta Riesco a scrivere A MMMs Non ci riesco Ciao Ciao Lava10 Benvenuto nella fazione Dove stiamo solo Io, te The Bad George The Bad George È l'unico che non si è andato Eh, fate come lui Eh, non me ne dovete andare Bellissimo Vedi Luca piace Eh, fammi scherire FC Ok Facciamo di nuovo Perché non so Eh, 20 secondi Per fare FC Va bene Va bene Forse Fchat va? Sì Eh, Luca C'è la chat Della fazione Eh, ti Anticipo Da adesso Che io Entro Di solito Nel Fine Settimana Così almeno Lui sai Dice Ah, ok Entra il fine settimana E io non scappo Cioè, almeno Spero Faccia questo Ok, va bene Sì Quindi Non Abbandonare Come hanno Fatto Gli altri XD Bene, bene, bene Ora Eh, diciamo che Questo video È pure un Un momento Che io ho Per dire a voi Che Che potete venire In fazione Però Me lo dovete venire a chiedere Magari quando sto nel server Eh, vedi Luca Eh, Luca Slash Lava Non so nemmeno come chiamare Ti chiamerò Giovanni Eh, che è migliorata Lo dice pure lui Eh, quindi Eh, quello che vi Devo impostare la descrizione Perché secondo me è questo Che fa scappare la gente Quindi Eh, quando mi trovate online Voi me lo scrivete Basta che me lo dite Quindi tranquilli Non mangio nessuno Anche perché Mi servono persone Mi servono soldati Guerrieri Guardate quanta gente Sta sul server Guardate quanta gente Può essere Fatta fuori Da noi Viene un attimo Dove? Si chiama il nostro Nuovo membro Eh Sì, che dobbiamo fare qua Perché mi hai portato In un recesso buio Di questa grotta Caro Dei claimare subito Ok F claim Può cremare solo Una terra collegata Ah, devo collegati qua Quindi aspetta un attimo Chicco Che mo' facciamo tutto Cremiamo tipo Qui Si può fare da qui Eh, devo aspettare Se viene qualcuno Fa saltare in aria tutto Eh Ma guarda Io l'ho trovata così Tutta scavata Tutta aperta Però Non lo so Non lo so Caro mio Non lo so Mettiamoci tipo Qua E facciamo F claim Attenti Un secondo Un secondo Beccato un secondo Ho perso 60 E non mi ha claimato Di qua Comunque mi ha claimato Solo qua Va bene Va bene Dai Ma poi claimo tutto Con calma Caro Caro mio Lava Luca Lo voglio la torta Sì Grazie Che ha portato pure la torta Hai preso uno schiaffo Da cosa Che ti ha menato Che è che ti sta menato C'hai fame Metti Metti la torta qua Metti la torta Qui 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 Magnatela Va Che te stai morire De fame Chico Porello Io mangio una mela Non ti preoccupare So Buono Ecco Vado più Per Per la frutta Dolce No Questa mangia Della tu Te la puoi Tiedi Dopo un po' Di pane Te lo butto qua per terra Magari poi lo troverai Non riesco a rispondere A A Miriam Che Avendo scritto Ti adoro Potrebbe essere Un Un ipotetico invito Di fazione Schiavo Grazie Player non trova Eh perché non ho scritto Mezzo nome Grazie al cavolo Sono fesso Grazie Player non trova Vabbè la poveria Non esiste Io ho portato Il pb Non ho fatto il compleanno Conosci gli azzi Eh MSG Metallaro Si che lo conosco Perché Attenzione Qua Stai recando Quante domande 50.000 Sono stati Ricevuti Da Il ninja Bene 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 Mo Mario Ti do di tutto Ok È successo Di tutto Non Non ho letto Un attimo La chat Mi stavo A pizzicare Il naso È uscito Dalla tua fazione Eh si Questo Ah Aspetta Così così Entro con Luca Me l'ha detto In privata Attenzione Metallaro Ha dei contatti Con Fermata Fermata Con calma Con calma Con calma Con calma Accetta di pia Eh no Non lo so Non mi fido Di sto Di sti Di sti Di sti pia vari Ok Vabbè Basta Mi mandate i soldi A caso Sono un tuo grandissimo Fanno Accetta di pia Sì Ma bella Per te È molto Ho una vicenda Da risolvere Attenzione Metallaro Ha delle vicende Con gli azzi Con gli azzi Va bene Va bene No Non è vero Non sto online Devo fare una rivoluzione Alla fazione Più forte di tutte Qual è la fazione Quale Fazione Fazioen Alessandro vorrebbe Entrare in fazione Beh Rispondiamogli subito Ha detto Ti do soldi Certo L'impero Dodo L'impero Dodo È La fazione Più grande Di tutte Quindi Sto tenendo L'appoggio Di tutti I lavoratori Oh mio dio C'è una rivoluzione Del proletariato Verso Questi L'impero Quest'impero Dodo Oh mio dio Intanto direi Che sto Alessandro Boh Lo invidiamo Ma si Dai Mi sento F Invite Alessandro 99 Era lui Si Deve accettarmi Che questo Forse Non dovrei Far vedere Che Ci stanno Dei piani Di guerra In corso In un video Che poi Andrà su youtube E magari Qualcuno Lo 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 potrà Vedere Vi racconta un po' Come va in questa fazione Eh Gua Metallari Ti avverto MSG Metallaro Forse Forse In video Non conviene Raccontare Dopo In segreto Se freddo Vabbè 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 Avrà capito Suppongo Comunque Alessandro Gli schiamo Ciao Ale E poi Una Devono capire Tutti Attenzione Poi qualcun altro Vegetali Voglio aiutarti A crescere In fazione Mandiamo il messaggio MSG Vegetali Vuoi Entrare Anche Chi And Eh Qualcuno Ha mandato Metallare In una parte Molto brutta Fammi Nidate Che ti dono Robbe Eh Guarda Non lo so Se 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 Intanto Voglio Invitare Vegetali Vegetali Intanto Eh Sì Sì Può Può Comunque Invito Anche loro C'è anche lui Esca dentro un altro account Luca 21 Sì va bene Però Però Per ora Penso che L'episodio Finirà di nuovo Così Mentre Invito Gente In fazione Spero che Per il prossimo episodio Ci avrà più di un membro In mia compagnia E Intanto Finiamo con l'invito Di vegetali Ah Quindi ha cambiato Proprio Membro Va Vegetali È di Impero D'Otono L'avevo letto Bene Sarà D'aiuto Comunque Ci vediamo al prossimo episodio Ciao